Prosegue il cammino di festa e di fede a Soverato Superiore, così dopo il ritorno del crocifisso ligno restaurato, la comunità ha potuto assistere ad un altro momento interessante dal punto di vista artistico, culturale, sociale ma anche spirituale, che ben si è inserito nel giorno in cui si festeggia la patrona della città, Maria Santissima Adolorata, la cui stato è stata per la prima volta accuratamente studiata dallo storico dell'arte Domenico Pisani, il quale davanti ad un pubblico attento e appassionato ha illustrato i risultati della sua indagine iconografica, giungendo alla conclusione che la statua di Soverato è la più bella e di maggior pregio tra tutte quelle da lui visionate. Non la solita Adolorata, ma una madre che soffre in modo composto, dal cui volto spira dolcezza e naturalezza nei lineamenti, che la rendono reale e al contempo regale. Una storia affascinante che ha destato tanta curiosità ed emozione, anche nel padrone di casa, Don Giorgio Pascolo, soddisfatto per la crescente attenzione verso le opere d'arte che la Chiesa custodisce, ma anche di Don Gino Martucci, direttore dell'Istituto Salesiano e dell'Associazione Soverati Incanto, organizzatrice della originale serata. I saluti istituzionali del primo cittadino Ernesto Alecci, che ha sottolineato l'importanza della festa e del grande patrimonio artistico presente nella parrocchia del Borgo, anche se, come evidenziato da Antonio Pellegrino in veste di moderatore, manca una politica culturale. La serata è stata impreziosita dai canti del coro polifonico Maria Santissima Adolorata e dallo Stabat Mater di Jacopone da Todi, magistralmente interpretato da Tonino Pittelli. Professor Domenico Pisani, storico dell'arte, una indagine iconografica della Madonna Adolorata di Soverato Superiore. Una esposizione molto appassionante, direi. Ecco, molto probabilmente Antonio Reggio, quindi lo scultore serrese con bottega a Napoli, che ha scolpito questa statua dalle caratteristiche di sobrietà. Lei ha trovato qualcosa di diverso in questa Madonna rispetto a tutte le altre. Che cosa? Innanzitutto ho visto questa Madonna dopo averne viste tante altre. Anzi, direi che probabilmente ne ho viste così tante da potermi fare un'idea di quello che è la cultura tra 700 e 800 degli statuari calabresi riguardo la Adolorata. Devo dire che questa Madonna di Soverato è una delle più belle, se non addirittura la più bella che ho visto durante i miei giri dal Pollino alla Spromonte. Bella perché? Perché è sobria. Non è frutto di una cultura controriformata che esagerava le espressioni dolorose, ma è ricca di semplicità, sobrietà, classicismo. È una cosa che la rende unica nel suo genere. Tra le particolarità, i particolari che lei ci ha evidenziato, queste lacrime, queste lacrime colorate di rosso che sottolineavano proprio il dolore per il figlio. Sì, generalmente non si notano a vederla così da lontano o sull'altare o addirittura su questo tronetto processionale su cui siamo abituati a vederla, ma ha una visione più approfondita, un po' a tu per tu con la Madonna. Si vede questa coloritura rossastra delle lacrime che servono forse per sottolineare, evidenziare questo rapporto così intenso che c'è tra madre e figlio, il figlio che vive la passione e quindi anche la madre partecipa, compartecipa della passione del figlio. Da cosa nasce il suo studio? Nasce da una passione che ho per le statue e ligne che mi porto dietro da molti decenni, ma nasce anche da uno studio più recente che sta per essere pubblicato su questa rivista specializzata sulle opere d'arte calabrese che si chiama Esperide, che ormai ha la sua quinta uscita e che forse merita un'attenzione diversa, anche se non è rivolta a tutti, è rivolta a un pubblico più specializzato, però si occupa dei beni culturali misconosciuti della Calabria. E lo studio in particolare della dolorata di Soverato? Riguarda un confronto che io ho fatto con altri scultori e con altre statue un po' disseminate per il territorio calabrese, l'ho presa in considerazione perché mi ricordava nel tocco dello scalpello e nell'espressione altre statue, le ho messe un po' a confronto e quindi ho potuto attribuirla, non ci sono documenti certi, però è un'attribuzione che mi sento di poter supportare. Di cosa ha tenuto conto secondo lei quindi lo scultore per scolpire la Madonna dolorata di Soverato? Come dicevamo prima, è uno scultore importante perché va a bottega a Napoli e a Napoli aveva l'opportunità di informarsi sulle novità, ma soprattutto anche di studiare l'anatomia. L'anatomia più difficile per uno scultore è quello dello studio dei muscoli facciali che creano le espressioni fisionomiche, sono studi accademici generalmente, solo Napoli poteva dare queste opportunità. Uno scultore locale, popolare, non aveva questi strumenti, ecco perché stiamo parlando di uno scultore abbastanza importante. Ecco, si fermerà qui questa indagine iconografica o continuerà? No, io spero che continui perché anche al rischio di essere smentito sull'attribuzione che ho fatto, sarebbe opportuno toglierle il vestito per vedere se sulla parte retrostante, quindi sulla schiena c'è, come generalmente si usava in quell'epoca, impresso a fuoco il nome dello scultore alla data.